Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Ezbo e oggi andremo a parlare di queste email che abbiamo ricevuto nella notte del 3 novembre da parte di Crypto.com Sono stato un attimo qui a capire ma prima di entrare nel video vi ricordo di iscrivervi al mio canale e lasciare un mi piace e un commento se volete comunque stare aggiornati e ricevere altri aggiornamenti del genere Allora ragazzi praticamente nell'email ci avvisano che dal 4 dicembre quindi non è subito attivo dobbiamo anche aspettare e accettare i termini e condizioni che hanno modificato Quindi una volta che leggete l'email o che entrate all'interno dell'applicazione vi consiglio di fare accetta in questo modo da essere a posto Comunque per capire esattamente che cosa dice nell'email è un cambiamento riguardo allo staking delle carte di Crypto.com Stiamo parlando del classico blocco che c'è sempre stato dei crow per ottenere le carte E praticamente siccome da poco tempo hanno inserito all'interno dell'applicazione di Crypto.com lo staking crow nativo Loro stanno switchando questa modalità quindi togliendo il crow il blocco dei crow esclusivamente per la carta In questo modo quando noi andiamo a bloccare i crow per la carta sia i nuovi sia quelli che già ce l'hanno da tempo Praticamente questo blocco verrà eliminato quindi stiamo parlando proprio di quello lì che c'era dall'inizio E verranno messi in staking nel praticamente nella rete originale di crow Quindi questo cambia molto e oltretutto ci verranno comunque date le percentuali In questo caso andando giù possiamo vedere che se acquistiamo la carta quella lì blu o quella lì rossa non riceviamo niente Mentre da quella lì verde in poi riceviamo il 4% il 7% per quella lì rosa o bianca e il 7% per l'ossidiana quella lì nera In ogni caso sono un po' ancora io confuso perché comunque se andiamo a fare staking di crow proprio nella rete In realtà la percentuale minima è già più alta del 4% ma adesso eravamo sul 6-7% annuo Quindi onestamente non so perché questa percentuale comunque è inferiore o qui addirittura non c'è nulla Visto che comunque stiamo bloccando dei crow per fare staking Inoltre qui ci dice che riceveremo i premi in modo settimanale proprio come facevamo già prima E che però qui ci dice che i premi quindi le ricompense verranno accreditate ogni settimana direttamente nello stake che noi abbiamo attivo Quindi in questo modo sarà un interesse composto quindi ogni settimana noi non so riceviamo ad esempio 10 crow E questi 10 crow andranno già di nuovo in stake e quindi così ogni settimana ogni settimana E ci permetterà di guadagnare la percentuale già da quei 10 crow che hanno aggiunto Quindi è un interesse composto molto interessante che ci permette di accumulare sempre più velocemente i nostri crow Quindi onestamente è sicuramente un aggiornamento che da quello che ho capito io e da come l'ho interpretato io È sicuramente positivo perché comunque andiamo a rafforzare la rete di crow E di conseguenza comunque togliamo quel blocco per le carte ormai obsolete che comunque c'erano dall'inizio Ma ormai visto l'evoluzione di crow visto anche l'evoluzione dell'app Siccome è possibile fare stake già dall'interno sicuramente è un passo interessante anche per le loro carte Comunque come possiamo vedere negli ultimi 7 giorni crow ha dato una bella mossa al suo prezzo E possiamo vedere che ha aumentato in modo abbastanza costante Molte persone qui su x quindi su twitter stanno parlando in modo molto positivo Sia per quanto riguarda le ultime novità e sia per quanto riguarda comunque gli ultimi aggiornamenti che stanno facendo all'interno dell'app E dunque anche questo aggiornamento per quanto riguarda le carte di crypto.com In ogni caso fatemi sapere che cosa ne pensate se avete anche voi ricevuto questa email E se siete d'accordo con quello che ho detto io Io vi ringrazio per aver visto il video Noi ci vediamo sicuramente nei prossimi aggiornamenti e vi ringrazio Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video aggiornamento Ciao a tutti